Accordo raggiunto tra Autostrade per l'Italia e il Ministero dei Trasporti. Nel faccia a faccia di ieri a Genova, tra la società di Atlantia e l'istituzione, il Ministero ha accolto il documento corretto di Aspi a proposito dell'A14. Per il rischio frana, che potrebbe danneggiare le infrastrutture autostradali, è stato disposto un nuovo piano con nuove soglie di allerta. Il viadotto del Cerrano sarà monitorato con appositi inclinometri, uno automatizzato che acquisirà dati di continuo e altri meccanici che andranno esaminati ad intervalli di tempo. E questa è la soluzione proposta dall'azienda dei Benetton per poter riaprire il tratto dell'A14 al traffico pesante, seppure rimane il nodo delle barriere di 1.600 viadotti sparsi lungo la penisola che Aspi non ha ancora omologato ai parametri di sicurezza imposti dalle autorità per un risparmio di 1,2 miliardi. Ottenuto il via libera dal Ministero, il piano di autostrade dovrà essere sottoposto agli enti preposti a gestire l'emergenza, ovvero Prefettura, Protezione Civile e Forze dell'Ordine in primis. Se anche questi dovessero approvarlo, e si presume che si esprimeranno nel giro di 24 o 48 ore, a quel punto l'istanza sarà inoltrata alla Procura di Avellino che avrà l'ultima parola sul dissequestro dell'A14 e la riapertura al traffico pesante, cosa che potrebbe accadere ad inizio della prossima settimana. Intanto, mentre l'emergenza sulla statale adriatica non accenna a placarsi, sono stati individuati percorsi alternativi per gli autotrasportatori. Ai Tirsi consiglia di deviare sulle A24 e A25 nel tentativo di deviare i flussi verso la direttrice tirrenica. Ma la situazione continua a pesare su coloro che abitano lungo la SS16. Stamattina aprendo la finestra, ho fatto col dito così, mi sono tutto sporcato di nero. Perché che vuole? Ho la siepe davanti, eccetera, ma non è che riesce di mantenere tutto lo smog e tutta la polvere che si produce. Anche la pazienza dei commercianti è finita. Le attività risentono dell'emergenza traffico e si organizza la protesta. Come nel mio settore, e penso comunque a tutte le altre attività commerciali, comunque parlando, avendo rapporti con altri commercianti, di Silvi, comunque si stima, abbiamo una cifra molto simile, comunque un 50% in meno di lavoro rispetto a prima, quando non c'era questo disagio. Perché gente ha paura anche di attraversare, non si fermano più con le macchine, è normale questo. Come si fa a vivere un po', si può vivere dentro un'autostrada? No, neanche possiamo vivere più noi qua, perché questa è diventata un'autostrada purtroppo. Come un'attività non ci può stare dentro un'autostrada, così non ci può stare qua, perché non si lavora assolutamente.